Inaugura il corso di laurea di medicina e chirurgia. Che significato ha per Bologna e per Ravenna? Per Bologna rappresenta un momento di espansione e di coinvolgimento di realtà presenti sul territorio romagnolo, estremamente importanti e proprio per la loro importanza contribuiranno sicuramente a ingrandire, se scusatemi il termine, quella che è già l'assetto dell'Università di Bologna. Per Ravenna è un momento di nuovo estremamente importante poiché la presenza di questo corso di laurea avrà ripercussione sull'organizzazione sanitaria e sulla città.